Cacacacaglio io 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 sono carretto tuttooo Cacacaglio a tutti! Caglio a tutti madonna sono io carretto JTV e siamo di nuovo qui con un video su Happy Deals il gioco preferito del mio amore Favijuei siamo qui con il trattore di sesso, droga e pastorizia FANKU! FANKU! Sono già morto! C'è la dama il primo tentativo non esiste comunque adesso non lo rifacciamo perché io sono troppo bravo mi sono allenato tantissimo guardando il mio amore Favijuei! Ancora di qua non basta cadete di qui! Ma che caspiterina sono ancora vivo non avrete mai il corretto JTV Mi sa che qua sono sbudellato vivo! Mi hanno sbudellato! Comunque adesso ce li provo perché io non mollo sono un duro! Sono un duro! E quindi non mollo mai ecco adesso ce l'ho preso la giusta piega devo andare di qui però no no lì no perché ci sono le punte vado giù piano! Volevi prendere! Mi ha preso! Ma sta brutta merda! No! Allora riproviamo perché se no io qua mi dopo vado fuori il cervello e comincio a schizzare e poi dopo divento pericoloso! Allora andiamo giù di qua e fin qua ci siamo figlio! Va bene qui ci siamo poi andiamo giù piano piano! Piano 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 piano! Volevi eh? Volevi brutte frecce infani! Volevate eh? Allora adesso devo passare qui ma io ci do una capata qui! Pen! Ci do una capatona! Come faccio a passare? Mamma mia brutta idea geniale! Guardate qua che bossa! Trick! No! Madonna ma l'ha infitta nel buchino del culino! Ma non avrete mai! Corretto giù è vivo! Ma mollami con ste frecce sul culo! Ma mi molli! Mollami! Mi guardate oh mi tengono sul culo una me la sono tolta! Adesso mi devo togliere anche l'altra! Mattanna che fatica! Cioè madonna non ce la faccio! Ne spingi! Spingi! Spingi che vado giù! Spingi dove le frecce! Spingi dove le frecce! Ah ma cosa succede? Ah ma sono esploduto! Oh! Allora proviamo sto livello con la bici e il mio figlio! Il mio figliuolo! Allora andiamo giù bambino! Andiamo! Let's go! Let's go! Andiamo! Allora oh 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 piano piano! Vai piano! Vai piano! Madonna ma cos'è sta roba? Oh ci sono... ci sono i nord africani qui che sono tutti... tutti decessi! Oh ma io devo passare ma non c'è... Ah oh! Mi riesci a passare? Ma... ma perché non va? Oh ma che bici scrausa è questa? Dai muoviti! Perché non sale ma sta bici schifosa? Dai muoviti! Salta qui! Ah! Mi spezzo il collo! C'ho il collo nel culo! Ce la faccio nel culo! Oh ce l'ho fatta però! Oh! Questa tecnica però funziona! Fammela riprovare! Con la culofaccia! Oh! Culofaccia o merda! Ho mattato il mio figlio! Ah 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 ah! Ho mattato il mio figlio però! Culo... culofaccia funziona eh! Ah si! Oh god! Oh god! Oh! Culofaccia funziona! Fammela riprovare ancora! Che dai che ce la faccio! Oh oh oh! Mamma che classe! Che classe corretta! J vince questo round! Questo round è mio! Grandissimo! Mitocissimo! Metto 5 stelle! Non posso perché non sono registrato! Che palle! Che palle! Allora iniziamo subito questo livello! Vediamo! C'ho ancora padre e figlio! Siamo io e Favij che andiamo in giro! Allora vediamo cosa devo fare qui! Che cacchio è oh! C'è un bambino col gabinetto! Cosa devo fare oh! Ma non c'è niente più lassù! Non l'ho spinta! Non ho niente! Ho perso gli occiali! Minchia mi sono ammazzato! Ah 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 ah! Ma mi serve un mezzo più... più elettrico! Più potente! Ecco l'elicottero mi sta bene! Oh adesso sì! Voglio vedere cosa fate! Brutti hunters! Ti è vecchio di questo! Oh non riesco a guidare! Oh madonna sono ubriaco! Allora bambino ti è vola giù col cesso! Adesso uccido il vecchio! Vieni vecchio muori! Muori vecchio! Oh c'è Babbo Natale! Aspetta che lo colpisco! Aspetta! Ah 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 ah! Avete visto che è l'uomo? Madonna! Guardiamo il reply! Cioè ho beccato con l'elica lascia! Che gli è andata a conficcarsi proprio nelle palle di Babbo Natale! Come si dice le palle di Natale sono meglio quelle di Babbo Natale! Cioè capito? Allora andiamo avanti! Fì ho perso le gambe! Sono diventato zoppo! Allora vediamo qui cosa devo fare! Andiamo avanti a questo potenziamento! Aspetta aspetta! Ce l'arrivo! Ce l'arrivo! Ce l'arrivo! Aspetta! Madonna è prima! Prima perché? Oh che cazzo fai? Brutto Babbo Natale però l'ho fatta vincere! Madonna! Al cardiopalmo! Questa vittoria! Però la voglio rifare perché sto livello mi è piaciuto troppo! Madonna! Cioè metto 5 stelle! Non posso perché non sono registrato! Fa niente! Le metto illusorie le 5 stelle! Allora bambina ti cago in testa! Allora poi vediamo chi c'è il borbone con l'ascia! Vieni qui che ti uccido! Ti uccido! Oh lascia! Ho perso lascia! Vediamo qui! Io ho Babbo Natale! Ah 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 ah! Madonna mi sono spezzati le eliche! Quindi io adesso vi saluto perché vi trascino all'arrivo! Perché non ho più le eliche! E poi ci ritecchiamo al prossimo video! Grazie per tutti i like e per le condivisioni! E un bacino a Favij e Ciccio Gamer! Caglio!